È vero che lei è un gran narciso? L'abbiamo un po' vista prima, prima della trasmissione abbiamo visto che si è aggiustato bene. Anche lei si aggiustava bene. No, ma io meno, meno, un quarto d'ora in meno. Senta, dicono che lei è un grande seduttore. Non so se è vero, ma così si dice. Ecco, che cos'è che la colpisce di più in una donna? Beh, ogni donna ha una sua personalità. Ci sono delle donne belle che non attraggono, che non colpiscono, ci sono delle donne che non sono belle e che invece hanno un grande charme. Ma ce l'ha un modello, diciamo così, un modello di donna. Mi è facile rispondere perché sono stato fortunato. Il mio ideale di donna è mia moglie. Questa? Sì. Senta, ma invecchiare le fa paura? No, anche perché è un problema che non mi riguarda. Io mi sento vitalissimo, ho una grande resistenza fisica.